ciao a tutti e nesini siamo qui in un nuovo video allora oggi andremo ad aprire un po di cosine vorrei iniziare con una blind box pokemon che mi è arrivata allora mi è arrivata al solito dal sito mods for you le prendo sempre qua queste qui perché i prezzi sono abbastanza buoni e poi anche le consegne arriva insomma arrivano in tempi abbastanza brevi e mi hanno anche mandato la solita bustina però stavolta più piccola perché ho preso una sola blind box con gattini cagnolini kawaii molto carina e come omaggio ho scelto la solita penna a zucca perché una l'ho regalata una mia amica che le piaceva un sacco perché queste penne scrivono veramente veramente bene e quindi ne ho preso un'altra questi sono gli omaggi che danno loro e la blind box è questa qua era troppo adorabile l'ho dovuta prendere perché è della della stessa tipologia di quelli di su mikko kurashi che avevamo preso che avevamo aperto insieme insomma e erano veramente fatte bene però sono dei pokemon e quindi sono troppo curiosa voglio andare a vedere che cosa che cosa trovo insomma allora davanti è fatta così sono porta chiavi e si aprono come vedete dentro ci potete mettere anche le cose per la scuola oppure tipo spillette qua eccetera sono ovviamente originali e vediamo quali ci sono dunque ci sono ovviamente pikachu poi c'è charizard che lo chiamano lizard on non sapevo poi c'è slowpoke poi c'è vabbè snorlax che è carino perché è come se c'è stesse dormendo ma sulle strisce pedonali poi c'è rolet poi c'è volpixalola mimikyu e ivi tra queste allora mi piacciono praticamente tutte devo dire quindi non saprei scegliere però se proprio dovessi scegliere forse volpixalola però comunque mi piacciono tutte cioè sono tutte belle quindi direi di andare subito a vedere che sono delle misure perfette per le bambole anche per le lol per esempio quindi c'è se vi interessano delle cose per le lol prendeteli oh carino snorlax snorlax è uno dei miei pokemon preferiti quindi sono super contenta e poi mi faceva troppo ridere che sto dormendo sulle strisce pedonali quindi andiamo ad aprirlo eccolo qua e poi c'è la catenina eccolo qua allora come vedete appunto è fatto così c'è il nostro snorlax con segnale di pericolo e qua non so se c'è scritto proprio il nome snorlax o no ditemelo voi se lo sapete il giapponese troppo carino e è fatto così a tutte le cuciture come vedete qua la chiusura le fibie e pure qua dietro la cucina e cuciture e qua potete appunto appenderlo poi come vi dicevo si apre molto facilmente più facilmente dell'altro e dentro c'è uno scompartimento in cui potete mettere le vostre cosine troppo carino veramente adorabile e appunto come vi dicevo sono a misura di lol o di barbie o quello che volete insomma e quindi o airdorables insomma e quindi potete metterglielo e sembra che vadano a scuola cioè troppo carini sono delle minature veramente adorabili e questo era uno dei miei preferiti quindi sono super contenta fatemi sapere quali avreste voluto trovare voi tra questi qua sono veramente tutti belli non avevo preferiti forse quelli che mi piacevano un pochino meno erano questi due però gli altri sono tutti belli poi velocemente volevo farvi vedere questo qua mi è arrivato un orologio l'ho acquistato sul su questo sito qua why not watch e niente mi incuriosivano sono quelli con il il cinturino in stoffa e i bottoni quindi ora andiamo a vederlo allora ecco qua la scatola come vedete e questo non è un video in collaborazione assolutamente l'ho comprato io quindi non non vi preoccupate però appunto mi piacevano li vedevo da un po anche sui social e quindi l'ho preso uno allora dentro vedo che c'è questo deblian qua che ci spiega come metterlo ma vabbè abbastanza semplice c'è un cinturino e qua ci potete metci potevano essere messi altri cinturini se li compravate perché quasi possono anche acquistare cinturini separatamente e cambiarli insomma e poi ho scelto questo qua come colore senape e non ne avevo mai avuto uno senape quindi l'ho preso e questo è il cinturino in stoffa abbastanza primaverile mi piaceva e vedete ha un bottone e qua alle sue asole per chiuderlo sotto è rosso e niente invece un sacco praticamente si infila così qua e qua ecco e poi si chiude col bottone veramente carino mi piace un sacco ditemi se se vi piace questo genere di orologi a me piace veramente tanto poi non costava chissà quanto io l'ho pagato a sconto 62 mi sembra che è un buon prezzo alla fine la qualità mi sembra buona quindi sono contenta allora poi mi è arrivato un pacco da amazon eccolo qua e dentro c'è una maglietta quindi ora la andiamo a vedere eccola qua allora adoro questo colore qua dal dalla fotocamera sembra veramente super super rosso in realtà è abbastanza scuro tipo bordeaux e prove colore non è proprio quello che rispecchia la realtà e qua ha tipo tutti i lacci e qua invece ha le spalle scoperte mi piace un sacco le maniche sono lunghe e il tessuto è fatto così spero che si veda ecco e niente mi piaceva un sacco quindi l'ho presa fatemi sapere se piace anche a voi ma questo modello mi piace un sacco e adesso passiamo a un'altra cosa allora eccoci qua dunque questi sono una novità ancora da noi non sono arrivati sono i pick me pops surprise non so come leggerlo però credo domies che sta per donuts cioè di tipo ciambelle e niente sono questa è la versione piccola io sinceramente mi sono sbagliata volevo prendere quella più grande però per quella mi sa che aspetterò che arrivino da noi perché sennò le spedizioni sono enormi e queste qua l'ho presa da amazon sempre amazon.com se non sbaglio comunque sono fatte così sono delle mini ciambelline e mi piacciono un sacco soprattutto la versione grande che ha oltre alla ciambella che ovviamente più grande anche altre sorprese all'interno tipo anelli portachiavi cosine tipo di gomma insomma tanto carine e quelle penso che le prenderò quando arrivano qua in italia però e niente sono fatti così come vedete sono proprio a ciambella eccole e sembrano tutti molto colorati molto carini quindi direi di andare ad aprirli qua c'è il tag allora andiamo a vedere è fatto così e di questa parte insomma di plastica morbida infatti credo si possa anche togliere scambiare con altre glasse però molto carina non profuma sa di plastica questa parte fuori quello dentro invece dovrebbe profumare allora andiamo ad aprirlo non so se adesso si vedrà subito quello che abbiamo trovato no sta dentro la blind allora quindi andiamo prima a vedere la checklist ah c'è anche ci dice già quello abbiamo trovato vabbè abbiamo trovato il pesce clownfish e questo dovrebbe sapere di berry glaze tipo glassa di non so di mirtillo e cose del genere credo e più c'è un cordino non so cosa ci serve forse per trasformare questo in un portachiavi non lo so devo dire il pesce non è che mi entusiasmova tantissimo è quindi in realtà non è che mi piace troppo peccato perché non è costato neanche poco però vabbè magari lo scambierò allora qua ci dice tutte le le varie vari profumi e il nostro dovrebbe essere questo qua se non c'erano questi sono più di 40 e le glasse fuori sono queste qua non so se sono a caso oppure se trovate sempre lo c'è sempre gli stessi dentro noi abbiamo questa allora ce n'erano di veramente carini ora si sono questi qua allora c'era il rinoceronte il koala il gatto qui lama che mi piaceva tantissimo poi il pony la coccinella il pure questo mi piaceva tanto il bradipo la giraffa gufo pipistrello manta poi ci sono questi a noi comunque abbiamo trovato un raro per lo meno almeno quello e vabbè gorilla la mucca il topo eccetera eccetera poi ci sono limited edition no special edition che hanno gli sprinkle i zuccherini insomma argentati limited edition che sono tutti glitterati e il jumbo che appunto sono quelli giganti che però non penso di prendere invece questi sono quelli medi che appunto sono fatti così e qua in mezzo hanno anche un'altra sorpresa e questi penso li aprirò quando arriveranno da noi spero che il prezzo sia adeguato comunque abbiamo tutti questi che sono ah e tra l'altro questi si tira giù anche il faccino cioè si aprono in pratica e sono più grandi ovviamente e qua hanno dentro questi pupazzini di jelly eccoli qua e più altre sorprese si vedete la differenza di grandezza è questa eccoli qua questo è quello jumbo e poi quello medio e noi abbiamo questo piccolo e questi sono i sorpresini dentro a quelli medi va bene comunque sono carini li prenderò altri quando arriveranno da noi quindi andiamo a vedere finalmente com'è questo pesce allora la bustina è fatta così e ha una glassa come vedete tipo tipo ciambella eccolo qua non c'è altro ok allora eccolo qui carino dai carino però insomma non era uno dei miei preferiti sinceramente allora sono fatti con la targhetta così agli occhi da tutte e due le parti l'odore è buono è abbastanza forte adesso poi man mano se ne andrà un po' e niente sono carini dai però mi aspettavo di meglio sinceramente gli altri magari mi sarebbero piaciuti più questo non so a cosa serve a sto laccetto sinceramente non ne ho idea ditemelo nei commenti secondo voi a cosa serve visto che uno già ce l'ha non ne ho proprio idea comunque questo qua ditemi che ne pensate insomma nei commenti se vi piacciono o se li acquisterete quando arriveranno da noi io appunto prenderò uno di quelli medi per provare non sono morbidissimi sinceramente sono abbastanza duri qua sotto hanno anche tipo pallini non so in polistirolo o qualcosa del genere e vabbè carino dai però niente di particolare onestamente allora come ultima cosa oggi andremo ad aprire un uovo di pasqua che è l'uovo di pasqua della perugina e quindi insomma sempre umbro stiamo sempre qua vicino a me e ho preso questo qua con cioccolato al latte allora questo non so che sorprese si possano trovare dice solo raffinate sorprese 100% made in italy è fatto così quindi direi di andare a vedere cosa si trova allora apriamo qua questo è da 210 grammi ok è tolta vediamo ok eccolo qui è veramente gigante e credo che il cioccolato sia molto buono però dopo lo vado ad assaggiare e si apre qua da metà wow ok vediamo un po' uh che carino allora una specie di collana che ora andremo a vedere meglio con l'albero della vita credo ok intanto ho assaggiato il cioccolato che è buonissimo ovviamente e vediamo allora qua ci dice anche che è nickel free e che questa è la garanzia insomma ci dice buona pasqua vediamo un po' com'è non so se porterò la collana ma penso di metterla come forse come porta chiavi allora è fatta semplice a cordino io queste con i cordini purtroppo non le porto più da un bel po' comunque è fatto così ecco questo credo sia il fronte è veramente carino sì penso di metterla come porta chiavi vediamo che ne pensate comunque penso sia abbastanza carina come sorpresa vediamo anche voi nei commenti che cosa ne pensate bene questo è tutto fatemi sapere che ne pensate nei commenti di tutto quello che abbiamo aperto oggi se vi sono piaciute le cose e fatemi sapere appunto se acquisterete queste cose che avete visto oggi nel video io vi mando un grosso bacione un salutone se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su iscrivervi al mio canale partecipare al mio giveaway che sta per concludersi e niente ci vediamo al prossimo video mi raccomando attivate la campanellina un bacione alla prossima ciao